Benvenuti in un nuovo video. Io sono Vagnarok ed oggi prepareremo un pazzeschissimo seitan alla cacciatora. Cacciatora senza cacciatore, sì, utilizzo il termine soltanto perché voglio che ricordiate il vecchio piatto della tradizione. Per sostituirlo con una nuova versione nella quale il cacciatore resta comodamente seduto a casa a guardare la nuova stagione di Bridgerton. Prepariamolo. Iniziamo tagliando il seitan, la carota e la cipolla finemente. Passiamo poi al seitan. Andrà benissimo quello al naturale. Tagliamolo grossolanamente. In una pentola con un filo d'olio spostiamo il trito di verdure, aggiustiamo di sale d'olio, aggiungiamo un rametto di rosmarino fresco e cuociamo a fiamma bassa. Aggiungiamo anche il seitan al naturale. Alziamo il fuoco e versiamo un mezzo litro di vino rosso. Lasciamo cuocere fin quando non sarà evaporato l'alcol. A questo punto aggiungiamo i pomodori pelati ed un bicchiere d'acqua. Lasciamo cuocere per almeno 30 minuti a fuoco basso. Sarà pronto quando si sarà ristretto. Guardate che meraviglia! È super gustoso, con questa ricetta vi innamorerete del seitan. Si conserva in frigo per 3-4 giorni all'interno di un contenitore. È possibile anche congelarlo per poi lasciarlo scongelare a temperatura ambiente. Siamo arrivati alla fine di questo video. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso questo tempo con me e spero davvero che questa ricetta vi sia piaciuta. Per farmelo sapere potete lasciare un like o un commento. Se invece siete il cacciatore scrivetemi qui sotto nei commenti se vi sta piacendo la nuova stagione di Bridgerton. Come sempre vi ricordo che se volete sostenere il canale potete iscrivervi cliccando sul pulsantino iscriviti qui sotto. Qui giù in infobox vi lascio i miei contatti di Instagram e TikTok dove pubblico un sacco di ricette extra e come al solito vi consiglio di andare a dare uno sguardo. Noi ci vediamo alla prossima settimana in un nuovo video sempre qui sul canale di Vagnarok. Ciao!